Ho pensato di registrare il vlog live, cosa che ogni tanto facevo più frequentemente, così aggrego due azioni in una, faccio una piccola live che è un po' che non ne faccio e commento, anzi, volevo dettagliare alcuni commenti su un ultimo post che ho scritto su LinkedIn, che in realtà è una sintesi di una serie di attività, di test che avevo fatto in alcune passate live e di varie prove su campo anche, in particolare il tema è la verifica dell'efficacia, potremmo dire, degli ADR. Sintetizzo brevemente il post, poi linko anche il blog post con cui si accompagnava, in buona sostanza l'invito è, dopo che abbiamo discusso ampiamente degli ADR, delle potenzialità degli ADR e degli XDR come evoluzione e cosa ci si può fare dentro, l'invito era un po' quello di verificare se le funzionalità che abbiamo implementato sui gli ADR fanno quello che devono fare, cosa che ci era capitato di commentare diverse volte, no? Tutti i software in qualche misura possono fallire o per problemi proprio dell'applicazione o per configurazioni errate e quindi l'unico modo per capire se gli ADR stanno facendo cosa devono fare è provare e vedere cosa succede. L'invito è un po' questo e proponevo, candidavo nell'articolo due semplicissimi test, anzi in realtà è un test in due modalità e tramite una tecnica di attacco che richiede l'attivazione di una banalissima reversa shell usando tra l'altro un tool stranoto che è V-Line e vedere appunto come si comporta l'ADR che avete implementato e su questo trarre delle conclusioni. Proposta da fare in due modalità, nell'articolo spiego un pochino come, una una reversa shell in chiaro, sempre in powershell come modalità in chiaro, quindi col codice direttamente scritto in un prompt di powershell e una modalità invece un attimino più stealth che richiede di offuscare lo stesso pezzo di codice, un attimino rimanipolato, applicare una tecnica di offuscation di powershell e vedere come si comporta ancora una volta l'ADR e invito appunto a verificare non solo come si comporta diciamo in real time, ci sono due macro elementi da osservare, cioè quello che viene in real time ovvero quando lancio il codice malevolo, cosa succede sull'inpoint, cioè viene bloccato o meno quel codice, nel caso il codice non venisse bloccato non è ancora detta l'ultima parola perché le telemetrie che l'ADR potrebbe, dovrebbe riuscire a raccogliere e potrebbero comunque identificare quella azione come malevole e quindi potrebbe comunque apparire un allarme sulla console e questo ci indica il fatto che le telemetrie in qualche misura esistono. Se comunque non appare nessuna allarme l'ultimo check che si può fare è verificare che telemetrie sono state raccolte dall'ADR e se esistono quelle che caratterizzano l'evento che abbiamo generato allora possiamo costruire una qualche detection rule per andare a intercettare l'evento. Questo è un pochino per sommi capi il test che proponevo e lo propongo perché da quello che ho potuto osservare su campo in tantissimi contesti, poi è una cosa che ho discusso anche mille volte che ultimamente sto discutendo parecchio sia operativamente che a livello di community, anche su Patreon, anche su Discord. Spesso il tema dell'ADR, la questione dell'ADR che sto usando è efficace o meno, è una domanda che tutti bene o male si pongono. Ultimamente, forse più frequentemente che in passato e quindi volevo un pochino anche riportare, mettere nero su bianco un po' di riflessioni. E dicevo su campo ho provato varie soluzioni, me ne capitano di diverso tipo e ho notato ovviamente comportamenti molto diversi da soluzioni che non si accorgono perché non hanno la telemetria e quindi dal mio punto di vista, ancora una volta, la do come opinione personale, se un ADR oggi non ha le telemetrie per rilevare questa casistica che è una casistica semplice, è un file smallware, probabilmente non è un software all'altezza del compito, sempre opinione personale. Altre casistiche intermedie in cui le telemetrie esistono ma non esistono le detection rule ma si possono fare. In alcuni casi, ad esempio, ci sono dei vincoli nella creazione delle detection rule, quindi sì ho le telemetrie ma è difficoltoso creare delle rule che mi consentono poi di generare un'allarme, oppure posso generare un'allarme ma non ho strumenti per bloccare, quindi per fare la parte di response, cosa che l'ADR dovrebbe fare su quella casistica specifica, quindi ci sono delle situazioni grigie da sanare. Negli ADR di fascia alta tendenzialmente, qua da prendere molto con le pinze, tendenzialmente le telemetrie esistono, questo si nota abbastanza e la differenza di quante telemetrie vengono raccolte da diciamo gli ADR più economici rispetto a quelli di fascia alta si nota abbastanza. Nel momento in cui comunque una buona parte delle telemetrie evidentemente posso fare sicuramente delle detection rule adeguate, in alcuni casi si osserva il blocco già sull'host, quindi prima ancora che partano le funzionalità di analisi degli eventi, quindi già quello che c'è a bordo host ci si può accorgere già da quelle funzionalità che il codice che stiamo lanciando è malevolo, in alcuni casi anche con il codice offuscato, quindi vuol dire che in quel caso l'EDR è molto ben istruito e parliamo sempre di situazioni quasi in startup, nel senso edr installato, attivato, funzionante ma senza particolari tuning, quindi partendo dalla situazione, dalle regole built in dell'EDR, quindi poi è tutto migliorabile, oltretutto da questo punto si può solo che migliorare, alcuni edr già in questa condizione questo tipo di file smallware, quindi la classica reverse shell, tra l'altro in TCP, in chiaro, quindi senza particolari elementi che possano nasconderlo, già agiscono e bloccano, altri anche di fascia medio alta non agiscono immediatamente ma danno l'allarme in console, cioè dopo qualche minuto l'analisi degli eventi consente alla console dell'EDR di dire che quella roba lì è una roba anomala e quindi in alcuni casi si può anche agire una response, altri invece non si accorgono, non c'è modo di accorgersi perché mi mancano le telemetrie, quindi questo è il test che invitavo a fare e in realtà la chiacchierata di adesso, oltre a sintetizzare un pochino tutto quello che c'era dietro, era per fare un update sui commenti interessanti che ho ricevuto, un paio pubblici, molti altri privati, parto da quelli privati che mi sono arrivati privatamente e che ovviamente non pubblico perché non mi sembra il caso, molti mi hanno chiesto se era un test da usare come comparazione tra varie soluzioni DR, no, assolutamente no perché per mille ragioni, la principale è che stiamo prendendo in carico in esame una singola casistica su migliaia con un singolo tipo di file smallware, poi ce ne sarebbero tantissime altre tipologie su cui si potrebbe lavorare, quindi non ha senso usare questo test come comparazione, cioè non serve a capire se uno è DR meglio dell'altro, la conclusione da trarre non è questa, l'unica conclusione che possiamo trarre per questo test è se l'EDR che adesso stiamo utilizzando è un'EDR che ci consente di rilevare telemetrie su una casistica che secondo me dovrebbe essere ampiamente intercettata che è quella dei file smallware, quindi questo è l'elemento su cui ragionare, cioè l'esito è ok, non ha trovato nulla il mio DR, vuol dire che probabilmente non ho le telemetrie corrette, lo verifico, se emerge che effettivamente l'EDR è un po' scarso dal punto di vista delle telemetrie che raccoglie mi faccio delle idee, oppure se vedo che ho le telemetrie ma non ho delle rule, cosa che probabilmente è la cosa più frequente, potrei ipotizzare, sopra una certa fascia, secondo me sarà questo l'esito, nessun allarme ma ho le telemetrie, posso fare delle regole, quindi devo un attimo lavorare sull'EDR, da questo punto di vista questa è l'utilità, non è un metodo di comparazione. Visti alcune riflessioni, adesso ci arriviamo, proporrò qualche altro test aggiuntivo da fare, proprio per, magari ricamando sulla stessa casistica. Per quanto riguarda invece le riflessioni che arrivano dai commenti che trovate su LinkedIn, delle domande di dettaglio di Pierfrancesco che ha toccato tre temi interessanti, ha fatto tre domande pirate che toccano tre punti interessanti, la prima mi chiede se ho usato TLS o meno, quindi se ho usato una connessione cifrata, in questo caso no, la sessione TCP era completamente in chiaro e qua si dovrebbe aprire una parentesi che sicuramente anzi aprirò più avanti, che è come questa cosa in realtà può essere gestita, questa specifica tecnica può essere gestita anche a livello di network detection, perché facciamo traffico in rete, parliamo con un command and control, quindi è praticamente certo che cerchiamo di fare traffico verso una rete, un IP pubblico, un indirizzo pubblico, quindi sicuramente attraversiamo, dovremmo attraversare il firewall di confine della rete che stiamo testando, quindi effettivamente interrogarsi sul cosa accade se faccio una sessione in chiaro rispetto a una sessione cifrata è assolutamente lecito e anche sul protocollo che vado a utilizzare, qua si apre diversi aspetti della tecnica che possono essere sviluppati, il primo appunto cifro, non cifro, il secondo è che protocollo vado a utilizzare, in questo caso era TCP secco, ma potrei usare HTTP, HTTPS, quindi usare un protocollo specifico per parlare col command and control, cosa utile, ne abbiamo parlato tantissimo quando abbiamo fatto le live sulla parte di cover channel, è una scelta da fare in base al contesto che stiamo testando, perché tendenzialmente si va a scegliere un protocollo che ci aiuta a confonderci nel traffico ordinario del target che stiamo appunto testando, quindi ha senso fare questa riflessione, qua ci siamo messi nella situazione più stupida in cui ci si poteva mettere traffico in chiaro. Da dire, a parte il tema firewall che vorrei trattare separatamente con un'altra sessione, sul tema IDR questa cosa in realtà ha senso analizzarla perché l'IDR stesso può verificare, anzi ci sono gli strumenti per verificare soprattutto il traffico in uscita dall'host. Ho notato che sul traffico in ingresso, o meglio, su alcune tipologie di traffico in ingresso ho notato che gli IDR fanno fatica, ad esempio quando un host subisce una scansione, di solito gli IDR non espongono particolari, non mandano particolari telemetrie per quella tipologia di evento, se invece l'host che ha l'IDR a bordo esegue una scansione cambia notevolmente la situazione, c'è un processo che fa delle attività a livello rete, quindi le telemetrie sono abbondanti su quella casistica. In questo caso, essendo una rega sociale, effettivamente è l'host che apre la sessione verso l'esterno, quindi c'è un processo che apre una sessione TCP, l'IDR, di solito se è un IDR che ha un minimo di qualità, le telemetrie in relazione a che sessioni TCP sono state aperte dall'host verso l'esterno ci sono e quindi effettivamente si possono fare delle detection a quel livello. Se non ricordo male, con le configurazioni adatte l'IDR può anche vedere ad esempio che comandi sono stati inseriti nel prompt PowerShell in questo caso, quindi si può arrivare veramente a bassissimo livello per capire cosa sta succedendo, l'IDR ha ampissima visibilità sull'host e se la sessione è in chiaro probabilmente si può anche osservare quello che c'è all'interno, come immagino dipenda dalle varie soluzioni. In questo caso comunque era tutto in chiaro, quindi se l'IDR ha la possibilità di osservare quello che sta passando nella sessione TCP, vedrà ben chiaro, su questi test almeno, vedrà ben chiaro quello che sta accadendo. Altra domanda interessante, anche questa forse ha a che fare sia con la parte Firewalling che con la parte DR perché mi chiede se ho usato un dominio come target o un IP, in realtà nei vari test ho usato entrambe le, diciamo i punti d'atterraggio, sia con un domain name che con il IP, da un punto di vista tecnico non cambia assolutamente nulla perché comunque c'è la risoluzione del dominio, da un punto di vista invece della gestione degli IOC, cioè di come vengono gestiti gli IOC dalla soluzione DR o ancora una volta la soluzione di Firewalling, questa cosa può cambiare notevolmente, ci sono alcune soluzioni di security che si basano sulla reputation dei domini e se lavorano ad esempio a livello DNS, nel momento in cui faccio una sessione basata sull'IP, bypass di fatto una parte di controllo, se invece la soluzione, diciamo che osserva quel traffico, verifica a livello di presenza nei propri IOC, nel proprio elenco di IP e domini, entrambe gli elementi, ovviamente questa cosa ha un impatto, tendenzialmente le provo entrambe in realtà sul piano operativo, in ambito operativo in realtà mi capita di provare sia IP che domain name di solito il domain name quando ho certezza di poter usare un domain name opportunamente rielaborato che mi garantisce un certo livello di, come dire, mi garantisce di passare relativamente inosservato e quindi ho vantaggio a usare un domain name come target, ma da questo potrebbe derivare anche una diversa configurazione del command and control, quindi potrebbe non essere una sessione TCP, potrebbe essere qualcosa di completamente diverso. Per chi si ricorda in passato abbiamo fatto dei giochini di Sfiltration usando come punto d'atterraggio Dropbox ad esempio, quindi usando una sessione HTTPS verso Dropbox, usando l'API di Dropbox abbiamo fatto un giochino limitato alle Sfiltration in quel caso, non ho un intero command and control, ma si può tranquillamente fare a livello di command and control. L'abbiamo fatto a livello di command and control con Github per dire, quindi sono varie modi, varie tecniche che si possono utilizzare per infilare dentro un domain name tutto sommato poco appariscente in un log di navigazione di una qualsiasi rete enterprise. In questo caso il test è basato sull'IP secco, ma poco cambia ai fini del test. Terza domanda molto interessante è la parte del AMSI patch o AMSI bypass, come in questo caso su lui fa riferimento specifico all'AMSI patch. AMSI, per chi non lo sa, sta per anti-malware scan interface, c'è una componente di Microsoft con cui di solito si integrano le soluzioni anti-malware, poi c'è anche chi si fa la propria DLL, però di fatto è quell'interfaccia che consente di fare tutta una serie di analisi a supporto della protezione dai malware. Lui giustamente la cita perché io faccio riferimento a PowerShell e PowerShell è uno di quei processi, processi, a me ne immagino sia questo il motivo, è uno dei processi che tipicamente carica la DLL AMSI proprio perché è ovvio, è ovvio e si sa che è uno strumento PowerShell utilizzato anche per azioni invasive, può essere utilizzato anche in quella modalità. Quindi AMSI viene sempre preso in considerazione dall'anti-malware in questo caso e viene utilizzato nativamente da Windows Defender. Quindi se non avessimo l'anti-malware a bordo, infatti nei test lo faccio vedere, la versione stupida del command and control, quindi quella che io chiamo vanilla nel blog post, in chiaro, senza offuscamento, sparata così sulla PowerShell, il Defender la becca ed è proprio AMSI che viene beccata. Quindi in questo caso ho usato solo offuscamento, non ho usato nessuna tecnica di AMSI bypass, anche se tra le tecniche di AMSI bypass c'è anche l'offuscamento come tipologia di tecnica, ma di solito quella più carina, e qua si mi riprometto di fare un approfondimento e magari scrivere due righe. Ce ne sono alcune molto carine da usare, diciamo che toccano proprio il concetto di AMSI bypass, che è una tecnica specifica per aggirare i controlli anti-malware. In questo caso la risposta è no, non ho usato nessun AMSI patch, ho semplicemente usato l'offuscamento, ma sull'AMSI bypass ci torniamo, perché effettivamente è un tema interessante. Il buon pietro, lo tiro fuori, è un tema che a me piace sempre ricordare in questo ambito, ne ho parlato veramente mille volte, forse vi sarete anche stufati di sentirmelo dire, che è quello del contesto in cui si lavora. Tra le varie note che mette c'è quella della parte del contesto, che secondo me è importantissimo quando si parla di improvement degli ADR, perché le regole che andiamo a costruire devono essere contestualizzate, cioè è anche un po' il motivo forse per il quale i vendor non tirano fuori un listone di regole precotte che possano andare bene per tutti i contesti, perché sarebbe in realtà poco applicabile, probabilmente, avere delle regole, molte regole funzionali a tutti i contesti. è poco realistico, correttamente i vendor tirano fuori un set di regole built-in che vanno bene più o meno per molti contesti, se ne possono scrivere moltissime altre, anzi se ne devono scrivere moltissime altre, ma che siano contestualizzate al nostro ambito. Poi sul caso specifico di PowerShell, come spesso mi trovo a discutere con chi lavora in ambito Blue Team o anche chi poi deve applicare le remediation una volta eseguiti questa tipologia di test, probabilmente, se parliamo proprio di file malware, probabilmente dobbiamo cominciare a ragionare sul disabilitare PowerShell su alcuni ambienti, probabilmente, però, ripeto, è una cosa da valutare nel contesto, dubito che ci siano dei contesti operativi in cui si può disabilitare a tappeto PowerShell, deve essere una scelta contestualizzata in base alle specifiche esigenze, le strutture, come sono disegnate le strutture, che tipo di strumenti sono gli utenti utilizzano e mille altre variabili. Quindi per questo trovo particolarmente corretto quello che ricorda Pietro nel suo commento. E basta, vi metto il link del post, così chi vuole, chi non ha avuto modo e vuole fare anche lui le prove sul proprio ambiente DR, nel post ci sono veramente le linee guida di come eseguire il test, ma in realtà su Patreon ci sono ore e ore di live su questo argomento. Non penso che ci tornerò proprio a livello di live sul singolo argomento. Ho fatto anche un video di sintesi del test su Patreon, ma l'articolo è abbastanza chiaro, ritengo, e si basa di fatto sull'utilizzo di V-Line, su cui c'è una tonnellata di documentazione veramente semplice da ricostruire. Come dicevo su LinkedIn mi piacerebbe ricevere eventuali esiti e discuterne, perché l'argomento per me è molto molto interessante capire come si comportano i vari DR nelle varie situazioni e soprattutto sarebbe interessante capire, nelle casistiche in cui non c'è detection, se si possono comunque applicare delle regole per portare il DR a andare in detection su questa tipologia di eventi e magari anche in response. Bye!